Mamma mia che disastro, è vero, c'ha ragione, oh santo cielo. Oggi sa che ho escluso dalla cosa tecnica sia Barreto che Palombo? Cosa facciamo? Un altro comunicato? Facciamo un altro scandalo? Andiamo a chiamare il presidente? Mandiamo messaggi alla società? Oddio, come mai Zenga oggi ha fatto riposare Barreto e Palombo? Avrà litigato? Ci sarà un problema? Ma perché io allenatore non ho il diritto di far riposare Cassano? E io non capisco perché tutti debbano pensare che nel momento in cui io dico ad Antonio Antonio oggi stai a parte, debba essere per forza perché deve fare una stupidata. Ma stiamo scherzando veramente? Ma il limite della decenza dove cavolo ce l'abbiamo? Cioè ma io devo fare un comunicato perché dico che Cassano oggi non fa allenamento? Ma avrò tutto il diritto di dire ad Antonio oggi ti riposi, fai allenamento col tuo preparatore perché hai bisogno di fare un'altra roba invece che fare questo? Perché se devo fare la tattica preferisco fare il 100% di tattica con Bonazzoli invece che il 50% di tattica con Bonazzoli perché ritengo che Bonazzoli abbia più bisogno di fare tattica rispetto a Cassano ed è un riconoscimento al giocatore, all'atleta e al fatto che lui, per me, non ha bisogno di fare la tattica. Quindi quando vengono fuori queste cazzate con su scritto ah vediamo la prossima telenovela, vediamo la prossima cosa state dicendo, scusi eh parlo in genere, state dicendo delle grandissime cazzate punto, fine e oggi non ho fatto fare la tattica a Barretto e non ho fatto fare la tattica a Palombo quindi c'è una palombite, c'è una barrettite e dai, su, c'è un limite a tutto un allenatore ha il diritto di fare ciò che meglio crede per la squadra sa quante volte non ha fatto allenamento Eder? o quante volte non ha fatto allenamento Viviano? o quante volte non ha fatto fare allenamento a Silvestre? e allora se la mente umana deve essere sempre portata a pensare che c'è qualcosa di male scusate, passo, io non ci sto, non entro io continuo a fare le mie cose prossima settimana se riterrò opportuno che Antonio non ha necessità di fare una seduta tecnico-tattica non la fa ma il rispetto dov'è? pensare sempre che c'è un problema tra un allenatore e un giocatore ma stiamo scherzando cioè, veramente, io sono allibito da questa cosa qua io sono un allenatore e avrò tutto il diritto di poter far fare allenamento a chi ritengo opportuno farlo fare e nessuno deve entrare a sindacalizzare se io faccio fare allenamento o no a Viganò o a Zaino e mi sono stufato di pensare che uno deve fare un comunicato perché se no la gente pensa che Antonio ha fatto Antonio si sta comportando da dieci elode mai sentito che Antonio si è comportato così e l'ho anche dichiarato, mi sembra, dopo la partita con l'Empoli se non sbaglio e più di dire queste cose qua non posso correre dietro alle notizie dei giornali che mi chiamano cosa è successo con Casano ho detto, tu Dio, cosa è successo? Cosa ha fatto? no, non l'hai fatto allenare e la Madonna, non l'ho fatto allenare allora cosa è successo? deve essere per forza un problema io gliel'ho fatto chiarire per non avere idee strane cioè, capisci com'è il sistema? io gliel'ho chiesto apposta per non avere idee strane non mister, hai fatto allenamento senza Casano dalla parte tattica? Bonazzoli, gioca attaccante magari ha più bisogno lui magari Rodriguez che ultimamente era stato infortunato ha bisogno di fare più tattica rispetto ad Antonio perché abbiamo determinate situazioni che dobbiamo migliorare Antonio è uno che, ripeto, per il suo curriculum per il suo carisma, per la sua qualità per il suo intendimento di calcio fargli fare la tattica a Casano mi sembra un'eresia e io ho semplicemente fatto una scelta in funzione di migliorare la squadra e far sì che quei giocatori che hanno necessità di fare tattica ne facciano di più di altri fine, chiaro?